Sono con Giulia Malvicini, ottima vittoria, complimenti, siete partite però un po' male, primo set cosa è successo? Hanno preso la stravista, loro erano belle cariche per oggi e anche noi però insomma ci siamo riprese dal secondo set e abbiamo fatto la nostra partita loro hanno preso tutto stasera e noi però ce l'abbiamo messo comunque tutta per portare a casa tre punti importantissimi in questa fase ecco secondo terzo set quindi siete passate in vantaggio e poi nell'ultimo loro sono ripartite aggressiva nel quarto set Sì sono stato sotto a qualche punto ma noi siamo sempre state a tre punti come la mentalità che ci sta allenando Marco quindi non è stato un problema ecco siamo stati lì e avevamo portato a casa per il suo lavoro Ecco quindi vi ho portato a casa ai tre punti, siete soddisfatte e adesso guardate la prima cosa più importante ecco adesso guardate la prossima partita Domenica prossima alle 5 studieremo bene, ci alleneremo al massimo per fare quello che si può bellissima grazie